buonasera e grazie per essere venuto nel nostro studio grazie a voi per avermi invitato così affermi di aver ispirato milioni e milioni di persone in tutto il mondo perché hai così tanto effetto in israele come mai è così accattivante qui non sono completamente sicuro del perché ma l'unica cosa che posso spiegare è che nel corso degli anni parlando con decine di migliaia di persone ho notato che le persone che sono state oppresse ebrei ispanici donne neri rispondono sempre meglio a questa rivoluzione in cui sono coinvolto perché capiscono l'oppressione l'hanno provata sanno cosa vuol dire essere trattati come nullità come se le loro vite non importassero penso che sia quello che sta succedendo qui gli ebrei sono stati oppressi per migliaia di anni capiamo la loro oppressione e per questo non la sosteniamo sto informando tutti perché la gente non si rende conto di quanto sta danneggiando gli animali nella sua vita quotidiana così quando faccio notare che la bistecca l'hamburger il panino col pollo che stai mangiando la cotoletta questi pezzi di carne vengono dai corpi vivi di animali vivi che non vogliono essere assassinati che non vogliono soffrire a morte che non vogliono essere tormentati così quando lo faccio notare alle persone la maggior parte delle persone le persone logiche fanno il passo verso il veganismo sai negli ultimi mesi ho visto tante manifestazioni a tel aviv di persone che protestano contro l'assassinio il massacro animale contro il mangiare gli altri animali ma mi sono avvicinata e ho guardato le loro scarpe di pelle ho pensato c'è un significato ambiguo è come se dicessero che non si possono mangiare ma si possono indossare sono consapevoli o rientra nelle linee guida morali no non credo che loro indossino scarpe di pelle sembrano scarpe di pelle perché esiste pelle sintetica che sembra pelle vera come esiste la carne finta che sa proprio di carne vera penso che molta gente accusi falsamente gli attivisti di avere scarpe di pelle quando non è così e ti sorprenderebbe che la new balance l'azienda di scarpe almeno il 50 per cento delle sue scarpe è vegan anche la nike e io non sostengo la nike per alcune questioni di diritti umani ma anche il 50 per cento delle scarpe della nike non è di vera pelle così molta gente suppone che i vegan e i sostenitori dei diritti animali indossino scarpe di pelle ci potrebbe essere un'altra questione delle persone effettivamente la maggior parte delle persone non è cresciuta vegan ma è diventata vegan nel corso della vita potrebbe aver avuto già delle scarpe di pelle a quel punto il danno è già stato fatto a che serve e buttarle nella spazzatura quando il danno è fatto e tu non eri cosciente dell'atrocità a cui prendevi parte così forse la gente finisce di consumarle e io consiglio di farlo puoi consumare la tua vecchia roba di pelle animale o puoi darla via che è quello che ho fatto io quando sono diventato vegan interessante che tu dica pelle animale non cuoio ci piace usare degli eufemismi ed è il motivo per cui queste atrocità avvengono così preferiamo dire cuoio quando è pelle di mucca e preferiamo anche il termine bacon cos'è il bacon vorrà dire carne di maiale così appena si inizia a pensare a chi indossiamo e a chi mangiamo ripeto che le persone giudiziose scelgono il veganismo non ha senso perché mettiamola in questo modo di solito spiego che questo è il più grande olocausto che è mai esistito e questo offende alcune persone io devo dire che a me offende sentire comparare l'olocausto come ogni persona che ha sentito le tue conferenze e ha sentito comparare l'olocausto con gli animali è un po' forte lasciami spiegare perché questo olocausto è peggiore a me offende sentire comparare l'olocausto umano con l'olocausto animale che è il più grande olocausto nella storia dell'umanità se si andasse nel più vicino macello di mucche o polli e si rimpiazzassero gli animali con gli ebrei si ricreerebbe auschwitz non c'è nessuna differenza è un edificio che esiste per smembrare tormentare torturare e assassinare esseri innocenti torniamo indietro di 60 o 70 anni torniamo ad auschwitz o a birkenau rimpiazziamo gli ebrei con le mucche e i polli continuiamo ad avere un olocausto abbiamo imparato ad uccidere gli ebrei i nazisti lo hanno fatto osservando ciò che l'industria della carne stava facendo abbiamo imparato a torturarci e ucciderci l'un l'altro perché prima lo abbiamo fatto agli altri animali ma gli animali mangiano altri animali solo alcuni animali il 75 per cento degli animali su questo pianeta è erbivoro è il cerchio della vita no è il cerchio della tortura e della morte quando vedi un leone che mangia una zebra tu ho notato che sei vestita e ho notato che hai un telefono cellulare e hai un computer è ingiusto scegliere di imitare una cosa che fanno i leoni quando non vuoi imitare tutto il resto quando i leoni si incontrano si salutano annusandosi il culo quando sono entrato in questa stanza non ti sei inginocchiata per annusarmi il culo ok i leoni a volte uccidono i loro piccoli se un umano uccide un suo piccolo perché non lo vuole lo arrestiamo accusandolo di assassino potrebbe presentarsi in aula e dire ehi ma vostro onore i leoni uccidono i loro piccoli io non posso è ingiusto è una comparazione ma è per sopravvivenza non sei un leone e solo per fartelo sapere i leoni sono carnivori gli umani no siamo cento per cento erbivori dalla testa ai piedi metti un bambino di due anni in una culla con un coniglietto e una mela avvisami quando il bambino mangia il coniglietto e gioca con la mela siamo puramente erbivori non abbiamo istinti carnivori o donnivori e fisiologicamente se muovi la mandibola da un lato all'altro con un movimento di masticazione triturante sei cento per cento erbivoro se tu fossi un mangiatore di carne come un leone la tua mandibola potrebbe solo andare su e giù sei un erbivoro ma qual è il tuo obiettivo principale perché la maggior parte del mondo non diventa vegan dipende per quale giorno me lo chiedi l'ingiustizia nel mondo non può durare per sempre il mondo diventerà vegan un giorno proprio come ogni donna su questo pianeta otterrà l'uguaglianza con l'uomo un giorno proprio come ogni forma di oppressione cadrà nel dimenticatoio un giorno l'ingiustizia non dura per sempre e sembra insormontabile non fraintendermi voglio dire io sono in trincea credimi sembra e pare che non possa accadere ma ricorda che ci sono voluti 400 anni per convincere la gente bianca in america che la gente nera non è di sua proprietà questo ti fa capire perché ci vuole così tanto tempo non riusciamo nemmeno a trattarci con gentilezza tra di noi figuriamoci a trattare i polli i maiali i tacchini gli insetti del mondo con gentilezza ma penso che riusciremo a trattarci con gentilezza tra di noi il giorno che impareremo a trattare gli altri animali con gentilezza sai mi sento un po a disagio perché ho mangiato una bistecca a pranzo e non sono ancora convinta al cento per cento di dover smettere di mangiare carne per il resto della mia vita non che io mangi carne tutti i giorni ma mi piace avere la mia bistecca nel piatto una volta alla settimana così ora hai due minuti per convincermi a mangiare carne una volta al mese non voglio convincerti a farlo una volta al mese voglio convincerti a non farlo mai devi metterti nella posizione degli animali immagina se ti violentassero per fecondarti ok qualcuno ti ha violentata per fecondarti hai dato alla luce questo bambino che ti rubano alla nascita ingrassano il tuo bambino con mais soia grano e avena il bambino viene messo in un campo di concentramento con ruote che lo porta in un mattatoio dove viene appeso a testa in giù pienamente cosciente insieme ad altri individui della sua specie urlando terrorizzato spaventato a morte quando gli viene messo un coltello alla gola e viene fatto a pezzi come si può giustificare tutto questo e non è la tua bistecca per me il linguaggio è molto importante quella bistecca non è mai stata tua e bistecca è un eufemismo di carne di mucca quella carne apparteneva a un essere vivente quando smetteranno gli umani di possedere e controllare degli esseri viventi quando smetteremo di considerarci gli esseri più speciali che siano mai esistiti su questo pianeta quando in realtà siamo la cosa meno speciale che mai esistita su questo pianeta sai che se gli umani fossero rimossi dal pianeta dell'estinzione degli umani ne beneficerebbe tutto ciò che esiste sai anche che se le api morissero come se ne sta parlando da dieci anni nei notiziari tutto il sistema collasserebbe se le formiche scomparissero tutto il sistema collasserebbe ecco quanto sono importanti e speciali le formiche e le api per il mondo perché ci crediamo migliori di loro se loro hanno un ruolo vitale e noi no noi siamo torturatori noi siamo oppressori da dove pensi che arrivi l'arroganza sì non ne sono sicuro non so che ci ha preso causiamo solo morte tortura assassino penso che quando introduci violenza nel tuo corpo violenza è quello che professi quando consumi discriminazione e morte andrai a trasudare le stesse orribili cose però la gente potrebbe dire lo stesso di te perché ci sono alcune persone che dicono è un arrogante si crede più informato di noi si crede migliore di noi come posso dire ti comporti come un giudice che mi accusa di certi crimini e mi giudica ci sono due tipi di persone quelle che giudicano e quelle che mentono dicendo di non giudicare tutti giudichiamo costantemente giudichiamo i pedofili gli stupratori i nazisti gli assassini e so che questo è uno shock per i mangiatori di carne latte uova ma i vegan sono più etici di voi nello stesso modo in cui una persona che non stupra è più etica di una che lo fa una persona che non uccide mucche maiali galline e tacchini è migliore di una persona che li uccide e li tortura pensi che una persona che non uccide mucche galline e non mangia carne non possa stuprare nessuno pensi che non possa uccidere non c'è un solo stupratore vegan in nessuna prigione se ne trovi uno dimmelo perché mi piacerebbe saperlo ti mostrerò prigioni di tutto il mondo piene di stupratori pedofili assassini e ladri che mangiano carne latte e uova per di più facciamo un passo avanti e parliamo di salute e trovami un ospedale con un gruppo di vegan malati ti mostrerò ospedali pieni di gente con malattie cardiache cancro diabete osteoporosi problemi renali tutte derivanti da consumo di proteine animali la causa principale di tutte le malattie più mortali del pianeta oltre a tutti i grassi provenienti da prodotti animali sai che hitler era vegetariano hitler non era vegetariano è una bugia completa una bugia completa e totale ideata da goebbels il suo ministro della propaganda hitler aveva un sacco di potere con tutto il potere che aveva perché non ha imposto il veganismo se era vegano o vegetariano sai che himmler il tizio che costruì tutte le camere a gas era un elevatore di polli non lo so forse voleva massacrare gli ebrei non possiamo sapere due suoi biografi albert speer e robert pain scrissero quanto amava mangiare i canederli di fegato e i piccioni farciti la sua cuoca preferita di han lucas scrisse un libro nel 1964 nel quale pubblicò le ricette preferite di hitler ed erano tutte a base di carne questo è il potere della propaganda il potere di goebbels che continua ancora oggi sai perché la gente crede che hitler fosse vegetariano goebbels voleva che hitler apparisse pacifista come un suo contemporaneo che tutti adoravano parliamo del mahatma gandhi gandhi era vegetariano e goebbels era come e hitler è come gandhi anche lui ama gli animali è pacifico con gli animali ed è vegetariano beh non lo era e solo per fartelo sapere in tutti i campi di concentramento c'erano mattatoi di animali e quando gli alleati entrarono e soccorsero gli ebrei e gli zingari lasciarono gli animali lì per questo dico che è il più grande e duraturo olocausto nella storia dell'umanità l'olocausto animale c'era da molto tempo prima dell'olocausto ebreo c'era durante l'olocausto ebreo e continua ad esserci oggi ogni secondo ed è così di ogni minuto di ogni ora di ogni giorno delle femmine vengono violentate per essere fecondate 60 miliardi di animali vengono uccisi ogni anno accetti o sei consapevole che la gente ti chiama terrorista certo in che altro modo dovrebbe chiamarmi la gente non potrebbe dormire la notte se mi chiamasse umano compassionevole perché io la biasimo e se torniamo indietro nel tempo e guardiamo tutte le persone che oggi tutta la società adora gandhi il dottor martin luther king persone come rosa parks cesar chavez ai loro tempi nessuno li amava ricevevano disprezzo volevano creare un cambiamento un massiccio cambiamento solo più tardi la società guardò indietro vide quegli attivisti rivoluzionari e disse erano geniali volevano solo portare pace e giustizia io sto cercando di portare compassione a questo mondo è incredibile che mi chiamino terrorista se chi salva gli animali è un terrorista chi li tortura li uccide e li mangia che cos'è ultima cosa abbiamo 20 secondi cosa hai mangiato a pranzo ho mangiato una cotoletta vegan e un hamburger vegan al vegan shawarma in città il mio ristorante preferito cotoletta vegan vegan shawarma hamburger vegan gary grazie mille